Buonasera carissimo amico maestro Piero Visconti ben arrivato delle tue vacanze io oggi ho avuto la grandissima fortuna di conoscere alla grandissima enorme soprano artista che è stata Renata Scotto che è venuta qui alla mia città alla Corugna per fare del master class purtroppo non ho potuto parlare molto con lei perché l'aspettavano per andare a mangiare e mi hanno detto affrettati Enrico che 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 debiamo andare debiamo andare sono potuto salutarla farmi una fotografia e l'ho donato due cd cantati da me e due disegni che ho fatto per lei. Bene, io voglio cantarti, anche so che tu mi farai così, da l'altra casa, direi, ai Enrique, Enrique, voglio cantare per te l'aria di Edgar, di Puccini, del mio amatissimo Puccini, per te. Puccini, del mio amatissimo Puccini, del mio amatissimo Puccini, per te. Puccini, del mio amatissimo Puccini, del mio amatissimo Puccini, del mio amatissimo Puccini, per te. Puccini, del mio amatissimo 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 Puccini, del mio am Suave visione, nico el alman da pulir. Oh visione, oh visione gentil d'amor e di esplendor. Oh visione, oh visione gentil d'amor e di esplendor. Oh visione, oh visione gentil d'amor e di esplendor. Oh visione, oh visione gentil d'amor e di esplendor. Oh visione, oh visione gentil d'amor. Certamente un'aria molto bella, molto bella dal Puccini della primerissima epoca. Io penso che è stata la prima opera di Puccini e Edgar. Adesso ho il dubbio, Edgar o Leville. Qui c'è la melodia di Puccini già. Quella melodia meravigliosa, quella ispirazione meravigliosa del maestro Di Luca. Bene, io ti mando un abbraccio, un abbraccio così grande, grande maestro. E adesso con l'email possiamo parlare lungo di tante cose belle della musica, del canto. Che ci sono toni meravigliosi e la musica è un arte meraviglioso, divino. Ciao, un bacione.